Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovremmo dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo fra le tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ha popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione affinché possa comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 29, 8 ottobre 1931. La divina volontà è la depositare di tutti gli atti di tutti i santi. Come Dio e la creatura si danno la mano, quali sono gli atti smarriti dallo scopo del nostro creatore. La mia povera mente gira intorno al sole del Fiat Supremo e lo trovo circondato da tutte le opere, sacrifici e eroismi che hanno fatto i santi antichi e nuovi, quelli della regina del cielo, come pure quello che ha fatto per amore nostro il benedetto Gesù. Il volere di vino tutto conserva. Essendo stato lui il primo attore di tutti i dati buoni delle creature, gelosamente li custodisce, li tiene in deposito in se stesso e se ne serve per glorificarsi e per glorificare coloro che li hanno fatti. Ed io vedendo che tutto era della volontà di Dio, essendo essa anche mia, tutto era mio. E girando in ciascun atto li offrivo come miei per glorificare maggiormente l'eterno volere e per impetrare che venga il suo regno sulla terra. Ma mentre ciò facevo il mio sempre amabile Gesù, sorprendendomi, mi ha detto Figlia mia, ascolta i mirabili segreti del mio volere. Se la creatura vuole trovare tutto ciò che è stato fatto di bello, di buono, di santo in tutta la storia del mondo, da me alla Mamma Celeste e da tutti i santi deve entrare nella Divina Volontà. In essa tutto si trova in atto. Come tu facevi attenzione a ciascun atto, lo ricordavi, lo offrivi, così il santo che aveva fatto quell'atto, quel sacrificio, si sentiva chiamare dall'anima viatrice e vedeva di nuovo il suo atto palpitante sulla terra e quindi vedeva duplicata la gloria al suo creatore da lui stesso. E tu che offrivi venivi coperta della rugiada celeste del bene di quell'atto santo. E da seconda lo scopo nobile ed alto con cui viene offerta, così più intensa e grande è la gloria ed il bene che produce. Quante ricchezze possiede la mia volontà. Vi sono tutti gli atti miei, quelli della Regina Sovrana, che stanno tutti in aspettativa di essere chiamati, ricordati, offerti dalla creatura, per duplicare il bene a pro delle creature e per darci doppie glorie. Vogliono essere ricordati, chiamati, per palpitare come nuova vita in mezzo alle creature, ma per mancanza di attenzione vi è chi muore, chi stenta per debolezza, chi si intrinstisce per il freddo e chi non ha di che sfamarsi. I nostri beni, atti e sacrifici, non si partono se non sono chiamati, perché col ricordarli ed offrirli le creature si dispongono a riconoscerli e a ricevere il bene che i nostri atti contengono. Poi non vi è onore più grande che puoi dare a tutto il cielo che offrire i loro atti che fecero in terra per lo scopo nobile, altissimo e sublime che venga il regno della divina volontà sulla terra. Onde continuò a pensare al volere divino che il mio amato Gesù ha soggiunto figlia mia, un atto, una prece, un pensiero, un affetto, una parola per essere accetti, perfetti, ordinati, completi devono elevarsi allo stesso scopo voluto da Dio stesso perché come la creatura nel suo atto si eleva allo scopo voluto dall'ente supremo abbraccia il principio e prende nel suo atto lo scopo con cui Dio l'ha creata e così Dio e la creatura si danno la mano e vogliono e fanno la stessa cosa. Col fare ciò entra nella creatura l'ordine divino l'atto divino e lo stesso scopo con cui Dio vuole che si faccia quell'atto. Onde entrando lo scopo divino l'atto di per sé stesso si rende completo santo perfetto e tutto ordinato. Chi è l'autore dello scopo di quell'atto? Tale esso si rende invece se la creatura non si eleva allo scopo voluto da Dio nel suo atto scende dal principio della sua creazione non sentirà la vita dell'atto divino nel suo. farà molti atti ma incompleti imperfetti disordinati saranno come atti sbarriti dallo scopo del suo creatore. Perciò la cosa che più ci piace è vedere lo stesso scopo dell'atto della creatura si può dire che essa continua la nostra vita sulla terra e la nostra volontà operante nei suoi atti parole e in tutto. bene carissimi amici e amiche oggi è come tutti sappiamo la festa del grandissimo San Francesco di Assisi uno dei santi certamente più grandi ma anche come se Dio mi aiuta dirò nell'omedia della Santa Messa di oggi uno dei più non solo fraintesi ma anche strumentalizzati santi della storia della Chiesa strumentalizzati cioè piegati addirittura affini o a diventare icone testimonial emblemi di movimenti di realtà di modi di pensare che stanno lontani dalla mente di quel santo anni luce è molto interessante che il Signore in questa particolare Dio incidenza ci abbia messo questo brano che parla proprio di parla anche di questo diciamo così in questa ricorrenza e spiega come tutti quanti gli atti compresi quelli di nostro Signore Gesù Cristo e della nostra divina Regina Maria si trovano nella si trovano in atto come se fossero fatti in questo momento nella divina volontà ma che possono essere presi e fatti nostri e quindi riofferti al Signore evidentemente con lo spirito e con le intenzioni sante con cui i santi stessi li hanno offerti al Signore e mettendoci anche addirittura la divina volontà in essi perché la gloria che ne deriva al Signore in questa mistica ripetizione sia immensa ed anche il ricambio di amore e di gloria che ne deriva al Santo stesso conoscere leggere le vite dei santi è importantissimo è una delle cose più basilari che si debba fare perché i santi sono stati dei fari per la Chiesa sono anche delle luci potenti perché sono gli amici dello sposo coloro che lo conoscono sicuramente meglio di noi più di noi e riflettere su quello che hanno fatto su quello che hanno detto su quello che hanno scritto è anzitutto a prescindere da quello che oggi Gesù dice su cui certamente poi si soffermeremo è anzitutto un esempio un'edificazione facciamo subito qualche esempio come sempre così andiamo anche in argomenti otto potremmo chiamarli o politicamente non troppo corretti San Francesco non è stato l'unico ma questa è una cosa comune a migliaia di santi non solo a fare penitenza proprio penitenza penitenza ma predicarla la penitenza e a farla con gesti e con strumenti che a noi uomini del ventunesimo secolo se ce li facessero ancora vedere ci prenderebbe un colpo io non dimenticherò mai lo racconterò tante volte la prima volta che ero abbastanza giovane c'avevo intorno alla ventina d'anni 21 22 andai a visitare perché sono cresciuto in una parrocchia francescana il santuario di Fonte Colombo qui dalle mie parti nel Lazio non troppo le mie parti sono vicino Rieti che è un po' la culla del francescanesimo attenzione tutti pensano ad Assisi ma a Fonte Colombo Fonte Colombo era un posto molto caro a San Francesco d'Assisi era almeno a quei tempi la casa di noviziato dei frati della provincia di Roma del Lazio quindi un posto carissimo se non ricordo male lì sì sì non ricordo male scrisse la regola dell'ordine quindi cioè poco distante da Fonte Colombo c'è Greccio la famosa Valle Santa intorno a Rietino dove San Francesco realizzò il primo presepe vivente racconto questo perché la prima volta che andai c'era dentro quella piccola chiesetta molto suggestiva molto bella c'era un quadretto una più che un quadretto era un vano no? era un un quadretto un po' spesso perché dentro c'era una disciplina non so chi di voi sa cosa sia c'era uno strumento di penitenza un flaggello chiamiamolo con un termine più comprensibile appartenuto a San Francesco noi quando pensiamo ai flaggelli pure io quando pensavo ai flaggelli pensiamo a che ne so delle strisce di corda qualcosa del genere no? e chi se lo scorda quando vi dico quella cosa mi ha preso un colpo non era un flaggello con strisce di cuoio con strisce di corda come ce l'immaginiamo noi forse nel nostro immaginario no? quello c'aveva c'aveva delle lamine affilate bisognerebbe vederlo per per farsene un'idea non sono molto bravo con Maria Valtorta nelle descrizioni lamine catene catene mezzo uncinate cioè allucinante se ti dai una botta con quella a fare lì di questo lo pensai subito ma ti riduci cioè ti si squarciano le carni sicuro io rimasi scioccato sotto shock perché ero giovane quindi cresciuto poi nella mentalità sia culturale sia anche ecclesiale degli anni 80 dopo io sentivo dire che le penitenze non servono i digiuni non servono perché ha già pagato tutto il nostro signore e quindi ti pare che noi siamo così superbi che vogliamo andare a fare altro non basta quello che ha fatto il nostro signore e io chiaramente sentendo queste cose in buona fede certo ma quelle erano cose da medioevo insomma erano retaggi c'era gente un po' ignorante oppure c'era diffuso nella chiesa il dolorismo lo chiamano così alcuni quindi la gente che voleva soffrire che erano mezzi malati di mente masochisti e io gli dico è giusto pensavo tra me è vero ti pare che uno va a fare queste cose ma che sei matto poi però ti presenti dentro il santuario e c'era scritta una didascalia dice questo è la disciplina appartenuta a San Francesco con questa macerava il proprio corpo e io con momenti non ci dormo la notte e qui sono stato sempre così dico aspetta 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 qui c'è qualcosa che a me non mi quadra non mi torna sarà un difetto sarà sarò curioso forse il signore mi farà fare un sacco di purgatori non lo so ma io purtroppo ho questa brutta abitudine che non riesco a fare spallucce dinanzi a queste cose dire vabbè e ci pensiamo no io ci penso e come ci penso e fino a quando non mi trovo una risposta non sciocca io ci continuo a pensare ne parlai con qualche frate sì no veramente una volta si facevano queste cose anche noi il noviziato i venerdì di quaresima un tempo adesso non si fanno più però dico ma come non si fanno più allora per me con la mia sicuramente testolina vuota e limitata dico ragazzi questo si è massacrato questo qui cioè se tu ti dai una botta con quella cosa lì io non lo so che succede sulla schiena o dovunque tu la porti se sarà data una botta sola nessuno ci fa un esercizio una disciplina 5 minuti pregandola dopo che ha finito ma che ci rimane e se questo lo facesse più di una volta se lo facesse una volta a settimana due volte a settimana tre volte a settimana tutti i giorni e poi mi chiedevo ma Dio vuole cose di questo genere le vuole o non le vuole no perché se non le vuole vuol dire che questo sta facendo un atto che insomma anche un po' un po' cosino ma questo è santo però San Francesco è santo canonizzato uno dei più grandi è lecito pensare che se facesse una cosa di questo genere insomma forse stava agendo sotto l'impulso di un'ispirazione forse gliel'ha suggerito lo spirito santo oppure è meglio pensare che sia un pazzo psicopatico perché amici guardate amici cari io che c'entrano tutte queste cose con quello che stiamo facendo oggi ma come che c'entrano con i miei c'entrano come far funzionare bene il cervello farsi le giuste domande e darsi le adeguate risposte tutte queste domande che mi facevo e che sto adesso rievocando per contestualizzarle nella mia meditazione non è difficile capire che sono tutte domande retoriche sappiamo che così è una domanda retorica una domanda retorica è una domanda risposta scontata perché San Francesco non era un pazzo non lo era se faceva una cosa di quel genere non lo faceva per quella è volontà di Dio certa e sicura e quindi questo implica anche qualche altra cosa implica che i peccati commessi vanno espiati implica che quelle offerte possono essere date al Signore per riparare i peccati impuri o per ottenere la conversione dei lussuriosi e che sono un'imitazione alla conformazione alle sofferenze di Gesù Cristo flagellato che un animamante brama per quanto sia una cosa dolorosa queste sono le risposte e allora tutte le cose che io ho sentito nelle cose in cui sono cresciuto che è tutto inutile che sono cose da medioevo che sono cose obsolete che sta gente erano mezzi malati di mente che bisognava ricoperarli insomma erano puntori del dolore invece il nostro Signore non vuole questo il Signore non vuole che soffriamo ma dobbiamo stare bene dobbiamo stare non dobbiamo soffrire appreso a queste cose che cosa sono queste cose qui la dignità dell'uomo ma che sei matto ti frusti mamma mia e che che è roba da figli di Dio dove sta la dignità dei figli di Dio ma per carità non si fanno queste cose sto dicendo quello che io ho sentito ho percepito l'ambiente in cui sono cresciuto allora se uno fa funzionare il cervello la come dire dinanzi a questo scenario ah guardate che l'alternativa è molto semplice o c'ha ragione San Francesco e attenzione adesso poi facciamo un altro step o c'hanno ragione questi i contemporanei i moderni o modernisti chiamiamoli come ci pare io credo che sia più la seconda che la prima però chi lo sa soltanto Dio può giudicare perfettamente poi io ho avuto anche il piccolo problema che avendo fatto gli studi giuridici gli studi giuridici ti plasmano un pochino il cervello nel senso che prima di poter fare un'affermazione tu devi avere le prove non puoi fare un'affermazione un indizio non fa una prova dice vabbè San Francesco ha fatto questo e gli altri che facevano agli altri che facevano che faccio rispondo a questa domanda oppure lascio l'invito andate a leggere le vite dei santi di tutti che faceva il santo curato d'Arza che faceva San Piero d'Alcantara che faceva San Giovanni della Croce che faceva Santa Teresa d'Avila che faceva San Pio da Pietrelcina che faceva San Massimiliano Maria Colbe che faceva San Luigi Maria che faceva San Bernardo date andate non ce n'è un che faceva San Giuseppe da Copertino il santo io sono nato il 18 settembre il giorno di San Giuseppe da Copertino l'ho raccontato credo nella pratica che aveva fatto quest'anno si torturava talmente tanto macerava talmente tanto il proprio corpo che una volta il superiore gli ordinò in virtù di santo obbedienza di togliersi l'abito religioso perché voleva vedere che cosa si era combinato perché camminava sempre tutto storto tutto quanto e lui non voleva assolutamente perché i santi vogliono evidentemente tenere nascoste queste cose non vogliono che si vedano un po' per pudore soprannaturale un po' anche per pudore umano insomma perché sicuramente non è non è un bello spettacolo però questo gli era chiesto per obbedienza e questa è un'obbedienza religiosa del tutto lecita per un superiore e quindi alla fine San Giuseppe da Covertino ha ceduto ma al superiore a momenti deve prendere l'infarto se lui ha lasciato scritto che un campo un campo di terra insomma dopo che ci è passato un aratro sopra è messo meno peggio di come stava la schiena di questo santo allora quando si studia procedura penale si impara che un indizio non fa una prova ma quando gli indizi sono numerosi e qui ce ne stanno numerosi gravi e qui sono gravi perché gente che ha fatto delle penitenze estreme San Domenico da Cusmano vogliamo parlarne contemporaneamente San Francesco che raccontano i biografi che lui dormiva in una celletta dove c'erano le pareti bianche quelle pareti erano state misteriosamente erano diventate misteriosamente rosse non si sa come mai ovviamente questa è una battuta sarcastico ironica no? numerosi gravi e concordanti perché questi fanno tutti la stessa cosa e questi come non fanno una prova la fanno e come e allora la domanda si fa ancora più incalzante chi ha sbagliato chi è nell'errore questi o i contemporanei ah questa è una domanda che ovviamente a questa non rispondo io certamente ho risposto ho risposto mi sono risposto e molto chiaramente nel mio cuore attenzione però perché se c'hanno ragione i santi eh qui dobbiamo un attimo risettare un pochino di cose risettare tante idee perché capite che cosa significa cioè e porre il fatto che la penitenza la penitenza virtù non la penitenza sacramente intesa come mortificazione macerazione corporale è un atto molto gradito al cielo e quindi anche necessario capite che ci interrogano o no e io che faccio punto interrogativo resto a guardare mi mi dico vabbè beati loro io però meglio di no cioè si 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 instillano si instaurano tutta una serie di di dinamiche qui poi ecco perché qui dico allora step indietro far funzionare il cervello è il primo step perché dopo una volta che il cervello ha fatto i corretti ragionamenti mi sembra che questi siano corretti ragionamenti poi se sono sbagliati scrivete nei commenti oppure durante la diretta adesso al termine della trasmissione ditemi guarda che questi sono sragionamenti le cose stanno così io con la mia povera intelligenza ho trovato quest'altra soluzione oh magari disponibilissimo ad ascoltare ad accogliere tutti l'intelligenza ci giunge a far comprendere come stanno le cose ma io non posso non posso stare nella divina volontà se non la conosco come spiega Gesù e questa è divina volontà è divina volontà una persona che abbraccia certamente non tutti possono fare adesso diciamolo subito i gesti eroici dei santi queste non sono cose che possono fare tutti perché il livello a cui sono giunti i santi sono livelli straordinari d'accordo perché se se non ci viene il teta non ci viene capito no quindi ci vogliono delle grazie particolari questa non è gente che è gente che ha fatto una vita in un certo modo non è che uno dall'oggi al domani piglia e comincia a fare queste cose spero che sia sottinteso ma è meglio specificare ma insomma a prescindere dalla modalità pratica perché può darsi anche che una persona non sia chiamata a grande austerità e quindi farà soltanto dei piccoli sacrifici magari qualche digiuno cioè non tutti sono chiamati a vivere in questo grado eroico la penitenza ma tutti sono chiamati a penitenza però su questo non ci devono essere dubbi quindi io non posso andare a dire in giro né credere non posso predicarlo se sono un prete ma né crederci se sono un fedele che queste sono cose che non servono a niente anzi che chi l'ha fatta bisogna pure pregare per lui perché a me era mezzo pazzo psicopatico capiamo no l'intelligenza è il primo step una volta che l'intelligenza ha funzionato correttamente c'è il secondo step il giudizio di coscienza io cosa mi sento cosa percepisco cosa avverto che il signore mi chiede una volta compreso questa cosa quindi penitenza bisogna farla bene signore mio che cosa vuoi da me vedrai come come nostro signore te lo suggerirà lo capirai benissimo però attenzione se la tua conoscenza è deturpata è deformata se tu stai nei giudizi sciocchi di chi pensa che queste sono tutte cretinate che il nostro signore vuole che stiamo bene anzi addirittura uno potrebbe anche potrebbe anche come dire strumentalizzare la divina volontà Dio non voglia eh perché ricordiamoci che Luisa era un'anima vittima ma siccome la divina volontà cioè dico queste cose per per ammonire perché il diavolo è tremendo nella sua astuzia cioè no ma la divina volontà non ha queste cose o non ha queste cose qui venivano fatte una volta perché non conoscevano la divina volontà ma tu l'hai detto tante volte anche tu la divina volontà ci vuole felici ci vuole pieni di gioia ci ricolma di ti amo anche quando mangiamo quindi non servono queste cose queste cose servivano prima quando la divina volontà non era conosciuta uno potrebbe anche pensare a queste cretinate dimenticando per esempio che Luisa era un'anima vittima anzitutto e che i presupposti mistici diciamo così per essere nella divina volontà sono che tu sei vittima e sposa anche qui Luisa veniva crocifissa dal nostro signore e dalla madonna ma andiamo a rileggere i primi volumi ma mica una volta sola la crocifissione è chiaro che non è richiesto tanto zelo ma che cosa ti sta dicendo il signore che se tu non c'hai uno spirito penitente e un grande amore al signore cioè essere vittima e essere sposa nella maniera comunemente praticabile da chiunque un grande amore a Gesù e uno spirito penitente poi ripeto ci sono delle anime piccole delle anime semplici d'accordo delle anime a cui il signore stesso non chiede le grandi austerità però un conto è dire queste grandi austerità non sono richieste in questa forma estrema a tutti e questo è vero un conto è dire queste grandi austerità non sono richieste mai a nessuno e sono delle grandi cretinate questo non è vero spero di essere stato chiaro allora quando Gesù dice che chiunque chiama questi atti li raddoppia li rinnova di quali atti parla di quali atti parla i nostri beni atti e sacrifici dice Gesù non partono se non sono chiamati i sacrifici io le posso fare io magari non posso fare le stesse penitenze di San Francesco ma le posso fare mie le posso fare mie signore mio mi unisco richiamo chiamo tutti i sacrifici tutte le flagellazioni tutti i cirizzi che ha portato nella sua vita San Francesco al capitolo delle stuoglie quando si riunirano i frati San Francesco dice allora fratelli stiamo due o tre giorni insieme concediamo un po' di riposo ai nostri corpi via da noi tutti quanti gli strumenti di penitenza hanno fatto un montarozzo davanti alla porzioncola andate a leggere le fonti francescane montarozzo pieno di catene di cose di strumenti di ogni genere di flagelli tutto quanto hanno ammucchiato la sua hanno fatto un montarozzo dei frati quindi ecco perché il santo più strumentalizzato che stimola fanno i movimenti pifamo la pace gli ecologisti tutti appresso a San Francesco capito perché lui vuole anche questo da qua ma che razza di cose sono queste qui non possiamo rifare le stesse cose e possiamo fare le nostre oggi questo ci insegna la meditazione di oggi gli atti miei gli atti della regina sovrana stanno tutti in aspettativa gli atti dei santi stanno tutti in aspettativa di essere chiamati ricordati guardate quante volte ricorre il termine ricordo ora se io mi devo ricordare qualcosa per ricordarmi di qualcosa la prima prima conosce la lettura delle vite dei santi è quanto di più importante ed edificante specialmente per i principianti ci sia perché loro sono i testimoni cioè se noi siamo ubriacati oggi da un sacco di cretinate che circolano anche in ambienti dove non dovrebbero circolare le cretinate anche da parte dei maestri che diventano maestri del nulla anche da parte delle guide che diventano ciechi e guide di ciechi allora io un conto che ho la coscienza formale che dico ma che stai a di tu ma se una caterva dei santi hanno fatto queste cose qua ma tu che dici ma con quale autorità ti metti contro la testimonianza di santi canonizzati in tutte le epoche della storia della chiesa cattolica chi sei tu non è che se c'è qualche autorità momentaneamente in atto dentro la casa di Dio tu sei il padre eterno in terra e ti puoi mettere contro tutto il patrimonio della chiesa cattolica lo vuoi fare io non ti giudico e prego per te io non ti ascolto però non ti do retta e guai a me se ti do retta se dici queste cose ecco perché è così importante la formazione Gesù dice un discepolo non è da più di un maestro ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro concludo con una chicca tutta la mia sappiate sappiate adesso non c'è tempo di spiegarlo ma ve lo butto lì che tutta quanta la mia attività mediatica sul web è partita da 118 vite dei santi mi arrivò questo DVD non mi ricordo manco da chi dove c'erano queste MP3 dove c'erano delle letture di queste brevi biografie dei santi fatte da un grande carmelitano che è il padre Sicari che si dedicò proprio a fare questi libretti i ritratti dei santi che sono veramente delle chicche dei libretti dove ci sono delle brevi ma bellissime biografie edificanti e io sentendo quelle cose dico no queste cose bisogna metterle in giro dico se faccio le copie dei DVD e le feci dico queste le posso distribuire in parrocchia ma in parrocchia quante se la prenderanno 50 persone 100 persone questi se li devono sentire tutti e da allora nacque l'idea del sito web perché come li mettiamo in giro e tutto è partito da lì quindi se qualcuno vuole andarsi a fare un giro che gli interessano vado sul mio sito web per chi non lo sapesse www.donaldomaria.pompea.it vada nell'area download scorra le directory e troverà vite dei santi storie delle vite dei santi qualcosa del genere li troverà tutti gli altri sti mp3 che a tempo perso anzi a tempo guadagnato riclicca e si sente un po' di belle storielle e si forma la coscienza e così quando qualcuno gli dirà fai così e tu sai che il santo ha fatto colà ecco la tua coscienza avrà un criterio di giudizio dice tu pensala come vuoi ma io preferisco il paradiso dice la San Filippo Neri e per andare in paradiso bisogna collocarsi dalla parte dei santi non dalla parte di quelli che ti auguro di essere santo ma ancora lo devi dimostrare perché i processi di canonizzazione si fanno quando uno è morto e dopo che sono stati accertati gli eroismi delle virtù gli attestati di santi qua sulla terra non si dovrà dare mai per nessun motivo a nessuno perché nessuno è santo se non ne dà prova a livello eroico e se non persevera fino alla fine il Signore ci aiuti in questo grazie a tutti Grazie. Grazie. In qualche modo è possibile, e sembra di sì, perché ci sono le lacrime della Madonna, anche tante cose che tu ci hai rivelato, cerca le sofferenze del tuo cuore sagratissimo, se è possibile in qualche modo particolare, a noi non ben comprensibile, perché in paradiso c'è la beatitudine, quindi non capiamo bene come possa essere possibile, senza della beatitudine, avere qualche forma di sofferenza, ma sembra così. E se questo è, sicuramente San Francesco guardando come sta ridotta l'Italia, l'Italia cristiana non ha al momento molto di cui rallegrarsi, ma molto per cui pregare. Noi invochiamo questo nostro grande patrono e questo grande esempio, basterebbe guardare a lui con occhi corretti, non attraverso la vulgata strumentalizzata che ormai ha acquisito valenze dominanti per rimetterci sul retto cammino. Tu fosti chiamato San Francesco da carissimo a riparare la casa del Signore che andava in rovina, ecco. Anche oggi occorrono molti riparatori e molti costruttori. Preghiamo insieme con te perché il Signore si degni di mandarli presto alla tua Chiesa, alla sua Chiesa. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria Fiat Ave Maria